Creare nuove opportunità di sviluppo e di cooperazione tra gli imprenditori italiani e quelli egiziani puntando al Mediterraneo. Parte dalla Puglia la nuova sfida commerciale tra i due paesi con il progetto ACUPI Italmed, a coordinare il gruppo di lavoro l'autorità portuale del Levante. Otto le regioni italiane coinvolte nell'iniziativa, capofila la Puglia. Il via l'intesa con una conferenza internazionale nel corso della quale è stato firmato un accordo nella capitale egiziana che avrà come obiettivo la gestione del nuovo progetto attraverso protocolli d'intesa, accordi commerciali bilaterali e progetti congiunti. La Puglia è la regione pilota in questo progetto integrato che la vede capofila di otto regioni. Per cui dalla Puglia parte questo messaggio importante, dalla Puglia che ospita l'Istituto Agronoma Mediterraneo ma anche la Fiera del Levante. Per cui due soggetti che si mettono in una dimensione aeromediterranea così come la creazione del Doyam da una parte e la prospettiva aeromediterranea della Fiera, che si chiama Fiera del Levante, lo dicono. Integrare questi sistemi significa trovare quelle condizioni per permettere ai nostri imprenditori domani di uscire anche dalla crisi. Tessile ed agroalimentare i settori sui quali Italia ed Egitto inizieranno a cooperare. I porti dell'Egitto sono porti che sono allo sbocco di Suez e quindi sono in competizione con i porti italiani, soprattutto quelli del Meridione, penso a Gioia Tauro e Taranto, ma soprattutto possono essere un'opportunità.